Per il momento, li avrà in questa tappa, siamo nella discesa del Croce Domini, Contini, Vanimpp, Baronchelli, Prim, Groppo hanno attaccato Bernardino, ecco lo sprint, Vanimpp in testa, Contini lo rimonta benissimo, vince la tappa, intasca la buono ed è maglia rosa, siamo Boario, incredibile, Bernardino ha ceduto il simbolo del primato, Silvano Contini è a un soffio dal clamoroso trionfo.